...un momento... ...forti pazienza, che Gaetano fa rima con puttana! Adesso basta, lei è una svergognata! Ritieni quello che ha detto, ritieni quello che ha detto la strozza! Non ritiro niente, anzi se vuole vi lo ritengo. Gaetano! Gaetano lasciala! Lasciala! Walter Malosti firma la regia dei Segreti di Milano tratto da due testi teatrali di Giovanni Testori Ecco, intanto la cosa che ho letto sulla cartella stampa, che è molto eloquente è questo unire due testi teatrali, una scelta abbastanza importante, direi Sì, beh, sono due testi che non si rappresentano anche da moltissimi anni sono due testi scritti da Giovanni Testori alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60 fanno parte di un ciclo che si chiama appunto I Segreti di Milano da qui il titolo complessivo della serata è un ciclo che si compone di cinque volumi i primi due sono il Ponte della Ghisolfo e la Gilda del McMahon da cui Lucchino Visconti ha tratto ampio materiale per Rocco e i suoi fratelli anche molto di più di quello che poi appaia all'interno dei crediti da quel mondo lì, quindi, che agli spettatori è subito familiare di quel mondo fa parte anche, insomma, la produzione teatrale di quegli anni di questo doppio, diciamo, esito la prima è la Mania Brasca che viene rappresentata al piccolo con Franca Valeri protagonista dove c'erano stati dei problemi, ho letto un pochino ed è una commedia, diciamo, popolare invece la Rialda che invece verrà censurata il copione viene proprio sequestrato e anche il libro viene sequestrato per 3-4 anni poi però la causa viene vinta da Feltrinelli e da Testori e da Visconti quello invece fu un grande scandalo perché insomma sono dei temi molto hard per l'epoca l'omosessualità, degli amori un po' difficili, diciamo il desiderio visto anche in chiave così è piuttosto esplicito anche se appunto non c'è niente diciamo di cui preoccuparsi ma proprio lo scavo dei personaggi è così ampio così, diciamo, Testori usa una specie di bisturi in questo, per chi lo conosce insomma, in qualche modo ci fa ricordare il primo Fassbinder sì, infatti, leggevo ma quindi è un, voglio dire c'è un discorso legato al perbenismo forse dell'epoca, siamo negli anni 60 e con questo testo, con questo teatro è un po' un ritornare indietro al neorealismo sostanzialmente beh, sì da una parte sì, da una parte no la storia è sempre un autore contraddittorio c'è sicuramente l'aspetto, diciamo, popolare tutto questo ciclo e anche i due testi teatrali che noi rappresentiamo mescolati in una nuova drammaturgia sono in qualche modo d'ambito popolare quindi anche tutto c'è tutto un aspetto legato al quotidiano gli amori, soprattutto i giovani che si affacciano alla vita il lavoro, eccetera, eccetera e c'è un affresco della periferia milanese di quella fine anni 50 inizio anni 60 d'altra parte però poi soprattutto in Rialda il tutto si alza perché appunto per testori la Rialda è una tragedia popolare per cui il testo poi inavvertitamente va verso dei toni diciamo più alti appunto da tragedia però popolare quindi anche quello probabilmente diede un po' fastidio cioè che un personaggio del popolo potesse avere queste altezze diciamo questo spazio ecco intanto diciamo che qui ci troviamo alle Fonderie Limone e questo spettacolo è realizzato con gli allievi dell'ultimo anno della scuola del teatro dello Stabile di Torino com'è andata con questi giovani attori? Benissimo questo è il loro osaggio di diploma che viene ripreso per questo progetto su un neuralismo con il Museo del Cinema a fare da capofila e sono insomma questa classe è piena di talenti quindi insomma penso che molti di loro continuano a lavorare in futuro che non è una cosa così scontata hanno molta energia molta voglia di fare sono generosi quindi auguro a loro tutto il meglio possibile molto bene molto bene va bene allora andiamo a vedere questi segreti di Milano noi ringraziamo Walter Malosti Samuele Marabotto per Prime 10 Pagine grazie grazie grazie